preparazione del tamper ovvero del letto all'interno dell'abitacolo numero uno siccome ci sono tutte queste viti noi li mettiamo sopra questo di gomma ok così ci da anche questi buchi che magari servono anche per servono i buchi servono sempre parte numero due copertura col tappeto parte numero tre testata del letto che però non mi convince parte numero tre copertura della ruota con il materassino che da testata è diventato a materassino parte numero quattro che include anche la parte numero tre rispostamento della della iniziale testata al suo posto per ora e materassino che apparentemente dovrebbe essere per il cane ma io il cane non ce l'ho questi vanno benissimo anche per uso umano sono puliti quindi e quindi eccolo qua materassino spettacolo parte numero cinque no tutto è sempre in movimento la vita in movimento parte numero 6 enorme cucinone parte numero 7 completamento con gli altri cucini io direi che va benissimo va benissimo per ora no ma tutto si può cambiare perché se devo mettere un baldacchino no se devo mettere una base di legno non è che voglio stare su una brandina capito a me piace lo spazio abbastanza largo che devo stare lì rannicchiato su una brandina modello preferisco avere uno spazio un po più grande è vero potrei rialzare i materassi metterli sopra una panca e dopo sotto la panca la capra canta sotto sotto la panca la capra crepa però sopra la panca la capra campa e quindi starei più comodo così e tanto che mi devo portare ancora in giro già di quello che non ho no il sedile lo volevo togliere ma ho cambiato idea gli metto come l'altra volta gli metto qua sopra una borsa a frigo e per me è sufficiente sufficiente con la i non ho grandi pretese se no torno a dire se no mi compro un camper io non vorrei meno il giaciglio è pronto qui ho messo una scatola che ho fatto con il rimasuglio di quello no con il ritaglio capito apro e gli metto dentro quello che mi interessa mettere dentro che ancora non so però mi dà una copertura dal materasso all'entrata questo qui è il tappeto del papa no perché quando entri si fa sempre tutta quella sabbietta e allora così qua mi dà una copertura preferisco averlo così di facile smantellamento che non mettere un'impalcatura per avere una una base sulla quale appoggiare il letto questo mi permette di liberarlo di togliere tutto molto più facilmente e questo è quanto no questo bisogna sistemarlo nicely ecco now we talking seriously guarda che bello stamattina sono andato per vedere di togliere quella bombola del gas non mi piace più è troppo grande penso di metterne una sotto la gomma di scorta e quindi insomma vediamo prossimamente vedremo il da farsi no scatoletta che riprende il mondo capito poi piano piano sistemiamo questo è il tappetino questo qua il tappetino che c'era davanti qui del sotto il sedile ma come potete ben vedere l'ho tolto oramai era improponibile no e quindi per adesso non c'è niente e non so ancora se metterne uno oppure lasciarlo nudo e crudo in in ogni caso questo lo tengo perché così prendo poi le misure qualora debba vederne uno che sia di mio interesse e quindi è questo pezzo di zavorra che mi porto dietro ecco visto che qua infatti l'ho tolto l'altro giorno vi parlavo degli attacchi qua del sedile no adesso non so se qua ovviamente non si vede vediamo a tirarlo avanti ecco qua sono praticamente come sono saldati no questi qua saltano via molto facilmente dalla dall'attacco che hanno qua infatti quello di fronte si è l'ho già fatto saldare una volta questo qua l'ho già fatto saldare cioè sarebbe da veramente da sostituirli e mettere un metallo più robusto più forte perché questo qua è veramente proprio non di carta però insomma non è molto resistente e considerando che non ci sono airbag non è che sia il massimo della sicurezza però ripeto andando andando anche agli 80 all'ora vabbè ecco una delle cose che mi piace qua in polonia che nessuno ti stressa se non hai la mascherina perché in ogni caso c'è sempre qualcuno o che non ce l'ha o comunque la tiene sotto il naso e per tenerla sotto il naso è inutile che te la metti c'è hai capito e adesso sono qui al supermercato che devo trovare qualche cosa da mangiare per oggi e domani adesso vediamo che cosa prende ciao 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 ciao